Ma diciamo che i motivi prima di tutto sono tanti, a partire dal mercato con tutte le eccezioni, è inevitabile che quando vendi calciatori come Peluso, come Iaguinta, come Matri, una serie di calciatori così importanti, c'è dolore nel mio cuore e forse può essere il segnale che la società non vuole vincere. Però chi fa il mercato, Marotta, nonostante non mi sia mai lamentato, mi ha sempre guardato storto e questo non mi è mai piaciuto. Cosa si sente di dire in questo momento ai tifosi bianconeri? Ma che sono nella merda perché senza Antonio Conte sarà molto dura, al posto mio so che arriva Max Allegri, scarso sia da allenatore che da calciatore, mi è sempre stato sulle palle quello, fissato sempre con questo gol di Montari. Quello che mi ricordo è che stava mandando il Milan dritto in Serie B, agghiacciante sotto tutti i punti di vista. Cosa farà domani Antonio Conte? Fatti i cazzi tuoi ecco.